Abbiamo avuto il piacere di incontrare l'Istituto Natta che ha avviato un ITS. L'ITS è una nuova modalità di somministrare formazione a tecnici che diventano esperti dopo aver frequentato o il liceo o un istituto tecnico o un centro di formazione professionale e possono accedere per due anni a un intensivo corso che si svolge sia in azienda che in classe. Quindi l'innovatività è proprio quella di dare molta concretezza, molte competenze di tipo pratico, in maniera molto selettiva, in modo da avere una preparazione che è molto richiesta dalle aziende.